Siamo nel centro sportivo di Carrington, la casa agonistica del Manchester City Siamo con Fausto Salsano che naturalmente oltre che essere uno degli assistenti di Roberto Mancini è anche una gloria del passato blu cerchiato Ciao Fausto, grazie per averci ospitati qui Grazie a voi di essere qua, mi fa molto piacere Allora il nostro obiettivo è quello di conoscere meglio i personaggi che hanno fatto grande la nostra Samp Tu sei legato a pagine memorabili della storia blu cerchiata Allora proviamo a ripercorrerla un pochino Sei arrivato alla Samp nell'ormai lontano 1979 Ci racconti com'è stato il tuo arrivo in blu cerchiato? Arrivavi da Pistoia se non ricordo male Esattamente, bravissimo Sì, diciamo che sono passati tantissimi anni Io ho iniziato il primo anno da ragazzino alla Pistoiese Come dicevi tu Dove mi ci portò il direttore sportivo Claudio Nassi E feci un anno a Pistoia con i ragazzi, credo, con gli allievi L'anno successivo Claudio Nassi arrivò alla Samp E io con lui venne alla Samp E da lì è iniziata la mia trafila Nel settore giovani, io con la Samp Fino a quello che tutti sappiamo Tu peraltro sei di Cava dei Tirreni, sei campano E per te già Pistoia era un posto lontano dalle tue origini? Molto lontano infatti All'inizio è stata un po' dura Però poi sono arrivato a Genova Mi sono sentito a casa Ho vissuto, da ragazzino vivevo a Bugliasco Per cui ancora oggi ho ottimi ricordi di Genova Anche tu naturalmente hai cominciato Hai vissuto un'epopea Diciamo gli anni d'oro della Samp Poi parleremo anche magari di quello che potrebbe essere Un po' un cruccio che riguarda la tua carriera Visto che proprio non ti sei goduto tutto fino in fondo Però diciamo che quando è cominciata la tua avventura Come tutti i giovani hai fatto un paio di stagioni in prestito Sei andato ad Empoli, sei andato a Parma Ti sono stati utili evidentemente per formarti Sì sicuramente In quegli anni dì il giovane si usava Che le società lo davano in prestito per fare le cosiddette ossa Io sono andato un anno a Empoli a novembre Tra l'altro c'era, mi ricordo benissimo, c'era Pezzotti Che mi conosceva già Che poi è stato allenatore in seconda alla Samp Ho fatto un anno a Empoli da novembre a giugno Ho fatto un ottimo campionato Sono tornato alla Samp E dalla Samp sono andato ancora in prestito Due per due anni a Parma Dove poi lì è stato un trampolino importante per me Perché nel primo anno ho fatto benissimo Il secondo anno abbiamo vinto dalla C alla Serie B E di conseguenza mi sono affermato E poi sono tornato alla Samp E poi hai cominciato un momento importantissimo della tua carriera Forse la fase più esaltante anche della storia recente della Samp Però è possibile che a 23 anni Tu sei un 62 Quindi a 23 anni Già fossi arrivato a un punto importantissimo Perché hai segnato nel 1985 Un gol che è rimasto nella storia di questa società O meglio lo hai segnato più avanti Lo hai segnato nel 1988 Per l'anno 1985 già alzavi la prima Coppa Italia Sì infatti l'anno che ho esordito in Serie A con la Samp Se non ero era il 1984-85 L'anno del mio esordio Esatto Sono tornato dal Parma Ero giovane perché a 23 anni A quell'epoca si era giovane per giocare in Serie A Tra l'altro ricordo benissimo perché Quell'anno venne anche Beccalossi E di conseguenza avevo un compagno difficile Però è stato un anno importante per me E quell'anno lì abbiamo vinto poi come tu dicevi Ricordavi la Coppa A proposito di compagni di quell'epoca Tra i vari ricordi che ho raccolto da parte di alcuni tuoi ex compagni O di chi ti ha conosciuto bene in quell'epoca Mi pare che tu fossi uno dei pochi che riusciva a far ridere Briegel C'è anche una foto memorabile in cui tu e Briegel Sorridete insieme No, no, sì, me la ricordo anch'io questa foto No, perché poi Perché lui era grossissimo e altissimo Io ero piccolo e magrissimo Di conseguenza una coppia un po' Però lui era una ragazza eccezionale Ho avuto un ottimo rapporto io con lui Sì, è vero E Graham Sunes? Altro? Beh, Charlie Sunes è stato un altro mio compagno importante E tra l'altro vi devo dire che Come tu sai Ci siamo sentiti varie volte da quando sono qui a Manchester E mi ha fatto molto piacere Naturalmente visto che ora siete anche vicini in qualche modo Visto che tu da qualche anno sei qui nel mondo della Premier League Tornando alla tua meravigliosa carriera blucerchiata Diciamo che dall'anno della Coppa Italia è venuta una crescita tua personale E della squadra che ha portato a risultati importantissimi Tra questi la Coppa delle Coppe La finale di Coppa delle Coppe di Göteborg resta naturalmente nella memoria di tutti i tifosi blucerchiati E tua in particolare Perché una zampata fondamentale l'hai messa anche tu in quella partita Sì sì, quello per me è un ricordo bellissimo Perché l'anno precedente a Berna, come voi, come tutti ricordate A Berna abbiamo perso il Barcellona E poi l'anno dopo ci siamo rifatti a Göteborg Dove io poi ero in panchina e tra l'altro sono entrato E come ricordavi tu Sono stato molto fortunato E' stato bravo Luca Vialli Per cui rimarrà sempre un ricordo importante per me Mi racconti come hai vissuto Cosa pensavi? E' una delle domande che faccio spesso ai campioni Che hanno fatto parte di quella Samp Perché in molti ricordano che nello spogliatoio di Berna Dicevate tra di voi quando mai ci ricapiterà l'occasione di arrivare a un'altra finale Così l'averla persa vi era molto dispiaciuto Poi siete tornati in finale a Göteborg Avete vinto la Coppa Ti immaginavi che questa Samp potesse arrivare fino al tetto del campionato italiano E poi addirittura quasi sul tetto d'Europa? Beh, in quell'epoca lì c'erano grandi campioni Per cui la squadra era forte E poi l'ha dimostrato nel cammino Sì, in effetti, quello che dicevi tu A Berna però c'era un'area un po' che non eravamo ancora al top Eravamo un po' titubanti Però poi l'anno successivo eravamo consapevoli di poterla vincere In effetti poi l'abbiamo vinta a Göteborg E' arrivata la maturazione un anno dopo Prima di quella finale c'è un altro gol importante A cui mi riferivo in precedenza Citando male l'anno Quella del 1988 Finale di Coppa Italia Si giocava allora sulla distanza delle due partite All'andata vincemmo noi senza difficoltà 2-0 Sembrava fatta In realtà poi a Torino le cose si misero male 2-0 per loro Tra l'altro mi pare due autogol nostri Quindi sono una partita un po' strana Brutto il clima Brutto il tempo di quella serata Bruttissimo Poi arrivasti tu al numero 1-1-2 112-1 Fortunatissimo perché in effetti sono anche lì in quella partita Era un campo pesantissimo Diluviava Sono entrato E credo dopo pochi minuti Si in effetto un gol importante Abbiamo vinto con un mio gol Una Coppa E anche questo rimarrà nei miei ricordi Si molto bello Parliamo un po' di un aspetto negativo Per quale maledetta ragione hai deciso di andartene quell'estate Prima del 90-91 No diciamo che Non è che presi quella discesa per andare via Le cose erano un po' diverse Nel senso che Come tutti sanno Mantovani per noi era il papà per tutti E io ricordo benissimo Quel giorno che lui mi chiamò E mi disse Mi disse Fausto è arrivato il momento che tu Puoi andare in una grande squadra E io rimasi un po' Dove? Alla Roma E mi disse E io gli disse No Presidente Non posso andare alla Roma Devo rimanere alla Sondoria Ma mi disse Tu devi andare alla Roma Perché c'è un Presidente come me Che ti tratterà bene E ricordati che la porta Quando ho un domani La porta qui sarà sempre aperta per te E mi convinse Perché in effetti La Roma era Una grande squadra Per cui accettai volentieri In effetti poi Alla scadenza dei tre anni di contatto Poi come tutti sappiate Sono tornato alla Sondoria Quanto fu importante Mantovani Nella tua crescita personale Quella Sondoria Quella famiglia Quell'aria che si respirava Per me è stato importantissimo Mantovani Mi ha voluto bene come un figlio Mi ha cresciuto Mi ha consigliato E devo Ne sono fiero Veramente Come ti collocavi In quel gruppo Di grandi campioni Non tanto a livello calcistico Per questo lo sappiamo tutti Avendoti visto giocare Ma a livello ambientale Nello spogliatoio Chi eri Per lo spogliatoio E blu cerchiato Normalissimo Sono come Mi conoscevi Un ragazzo normale Molto aperto Molto disponibile Al dialogo Pochissime volte Faccio Come posso dire Sono Abbastanza Per unire E non per disfare Per cui Molto tranquillo E dei compagni Di quell'epoca Che cosa Ti senti di ricordare O di mettere in particolare Risalto Certamente la crescita Dei gemelli del gol Che tu hai vissuto Praticamente Tutta per intero Sei quasi coetaneo Di entrambi Due anni di differenza Sono sicuramente Sicuramente pochi La costruzione Pezzo dopo pezzo Di una squadra Che man mano Andava rinforzandosi Crescendo L'esplosione di Pagliuca Poi alla fine Degli anni 80 No ma in effetti Diciamo che E' una squadra Che è stata poi Pian piano Messa pezzo per pezzo E' stata costruita Per vincere Come ricordavi tu Vialli, Mancini Lo stesso Vierco Di Mannini Attilio Che lavora qui con me Lombardo Per cui Non vorrei dimenticarne altri Era un gruppo Molto unito Un gruppo che Sapeva quello che voleva E poi in effetti Sono arrivati anche poi Arriva la famosa partita Di Champions Per cui Ne ricordo Ho dei ricordi Veramente bellissimi Se ti avessi fatto Questa domanda All'epoca Mi avresti detto Che da professionista Ho dovuto giocarla È normale così Ma oggi Vincere con la Coppa Italia Contro la Sampdoria Che è il trofeo Che hai sollevato con la Roma Che effetto ti ha fatto In quel momento Forse quasi di essere Dalla parte sbagliata No in effetti Era un po' strano Come cosa Però poi Quando si gioca Una squadra Bisogna dare il massimo Tra l'altro Non ricordo Se io Quella partita Ho giocato dall'inizio Credo di no Credo di no In effetti Però È stata Una cosa Molto bella Molto bella Poi ritrovarsi E giocare contro Alla Roma Tre anni Comunque importanti C'è stata la Coppa Italia Il ritorno Con la maglia Blucerchiata Evidentemente Era un destino Che doveva compiersi In qualche modo Anche la Sampdoria Che hai ritrovato Dopo Era una grande Sampdoria Che forse ha fatto Un po' meno Di quello che avrebbe potuto fare Sì sicuramente Ha fatto un po' meno Sono tornato E ero felicissimo Perché il Presidente Me l'aveva promesso E poi Diciamo che poi Ho smesso Praticamente Ho smesso la Sampdoria Poi c'era stato Una parentesi Un po' così e così Perché speravo Poi di Di rimanere Nella famiglia Non ci sono riuscito Però Sono felicissimo Poi insomma La tua carriera di calciatore Finita in Le serie minore Hai fatto Lo Spez E poi sei andato Credo All'Assestrese Dove 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 Facevo Un po' Da giocatore Un po' Da allenatore Poi Hai cercato Di rimanere In Liguria Per un certo periodo Perché vedo Che poi La tua carriera Da allenatore Era cominciata Con l'Imperia Poi Eri andato A Catania A fare allenatore In seconda Il vice di Di Pietro Vierco Di Pietro Vierco Poi alla Fiorentina All'Inter E quindi poi Adesso al Manchester City Ti chiedo Se il rapporto Con Roberto Mancini Era già così stretto All'epoca Perché Roberto Mancini Qui diciamo Che ha proprio Blucirchizzato Questa società Perché ci sei tu Naturalmente c'è David Platt C'è Artiglio Lombardo Siete veramente Una colonia Molto Molto legata Questo legame Già cominciava In quegli anni Sì sì Io con Roberto Avevo un legame Già Dai primi anni Di quando Sono arrivato Alla Sampdoria Oltre a giocare Ci frequentavamo Anche fuori Diciamo che stavamo Quasi Non dico Tutti i giorni insieme Ma quasi Di conseguenza Questo rapporto Poi si è cementato È diventato forte Quindi poi ha portato Anche questo legame Professionale Che ora vi unisce qui Esatto Sì sì Questo mi fa molto piacere Ho letto Una tua intervista In cui recentemente Hai detto Mi rivedo In Foggia e Cassano Sono giocatori Che ti ricordano Un po' Le tue prestazioni Sì Ha il modo di giocare Più o meno Foggia un po' di più Ha Cassano un po' meno Perché è un po' più attaccante Però ha un talento Sono due grandi giocatori Due campioni Di scopo E certo io Foggia peraltro Che ha accettato La Serie B Per giocare Nella Samp No sì È un giocatore Un giocatore di talento Un giocatore che Accettatevi nella Samp Perché la Samp È una grande squadra Parliamo di rapporti umani Un calciatore È per eccellenza Un giramondo Uno che Vede tante piazze Tu sei nato in Campania Poi la Toscana La Liguria La Capitale Italiana È l'estero Qual è casa per te? Ma per me è difficile Io in questo momento Diciamo che la mia vita Era programmata Di vivere Di vivere a Genova Poi per motivi Di questo lavoro Ho dovuto fare Un'altra scelta E tornare Nella città di mia moglie Che è Parma Però direi Che la mia città O la mia seconda città È Genova Perché io Tutti gli amici Ce li ho a Genova Quando posso Vengo a Genova Di conseguenza Ho vissuto vent'anni a Genova Hai ancora frequentazioni Esatto Ho tanti amici No no Sicuramente Se dovessi consigliare Un ristorante Visto che voi Vabbè I famosi Che tutti conoscono Andavamo da Carmine A Piedigrotta O la Ruota Nervi Sono i soliti E sei rimasto fedele Anche dopo la carriera Di calciatore Se torni Torni lì a mangiare Sì sì Sicuramente Ma ci sentiamo ancora Con queste persone Quindi avete ancora Un rapporto Che si porta avanti Negli anni Così come magari Con la famiglia Mantovani Esatto Io mi sento con la Francesca Che è rimasta Tua buona amica Sì E invece l'Inghilterra? Ma l'Inghilterra Un'esperienza importante Che sicuramente Mi farà crescere Che sono felice Di essere qua E soprattutto Speriamo poi In futuro Di ottenere Di risultati importanti Come abbiamo fatto all'Inter Qual è il tuo sogno? Quello di allenare Una squadra tutta per te? Ma qui è un discorso Un po' lungo Perché Io credo che Chi fa questo mestiere Che faccio io Dentro deve avere Questa cosa Di poter poi Un giorno allenare Di voler allenare da solo Però poi ci sono Tanti motivi Perché uno poi Non intraprende Questa strada Io Posso dire che Sono al top Perché lavorando con Roberto Sono al top Roberto viaggia Al massimo Per cui di conseguenza Sono felice Di essere qua E di continuare a stare Con lui Per me è importante Il lavoro La famiglia Io ho la mia famiglia Che vive qui con me E di conseguenza Per me è il massimo Quindi tu hai fatto la scelta Di portare la tua famiglia Conta Sono contenti Si sono ambientati bene Moltissimo Stanno bene Si trovano benissimo Sono felicissimo In chiusura della nostra intervista E ti ringrazio per la disponibilità Ancora qualche accenno Sui tuoi Trascorsi blu cerchiati Qual è l'allenatore Più importante Naturalmente Immagino Hai avuto Tanti allenatori Uno ad esempio Bersellini Addirittura dice Recentemente È stato il mio prodotto Sì è vero Perché Bersellini Mi ha portato lui Alla Samp Nell'84 E mi ha fatto giocare Lui mi ha voluto A tutti i costi Quello è vero Si posso dirlo Perché Lo ricordo benissimo Perché Io ero a Parma Un giorno Mi incontrai Con Pezzotti E mi disse L'anno prossimo Tu torni alla Samp E lui disse Va bene Tu torni alla Samp Sì è vero È stato uno Un suo prodotto Cioè lui Credeva in me Poi però Non posso dimenticare Bosco Perché per me è stato Un grande uomo E lo stesso Sven Eriks E se dovessi ispirarti A qualcuno di loro Per la tua carriera Di allenatore Quale sarebbe Il tuo modello Ecco Bosco Bosco Perché Sdramatizzava molto È vero È vero che sei un mediatore Tu Sì io faccio Cerco Cerco di fare questo Sì Diciamo che Quando Roberto Usa il bastone Io uso la carota Sì è importante Forse è per questo Che Roberto Ti vuole sempre con sé No Perché Sì sì no Di questo Ma ci vuole Ci vuole anche questo A questi livelli Indubbiamente Bene Fausto Io ti faccio un boccalupo Naturalmente Per il tuo futuro Ti lascio Una conclusione Perché i tifosi Brucerchiati Non vedono l'ora Di rivedere Alcuni personaggi In particolare Quelli a cui sono più legati Perché sono legati Al momento migliore Della nostra storia E allora Per salutarli Lasciate lo spazio Ma no Sicuramente Un abbraccio forte A tutti i sandoriani E a tutti quelli Che mi conoscono Grazie Fausto Grazie a voi Grazie a voi